Eccoci qua, buongiorno. Ci troviamo alla Fanusa. Alcuni cittadini, non sono solo loro, ma gli altri dovrebbero arrivare, ci hanno chiamato, mi hanno chiamato perché ci vogliono segnalare quello che sta succedendo all'interno di questo terreno, e adesso chiediamo ai signori se è un terreno pubblico o privato, la costruzione di questa antenna che è nata come i funchi, senza che non la renda. Hanno messo questa base e adesso hanno costruito questa antenna, per quello che noi sappiamo, emana radiazioni pericolosissime per gli abitanti della zona. Allora io dico una cosa, carissima amministrazione comunale, carissimo sindaco, carissimo, voi non lo sapete, ma abbiamo un onorevole, un deputato regionale che è presidente della commissione ambiente, Giuseppe Carta, sindaco di Melilli. Io capisco, caro Giuseppe Carta che fa programmi estivi, divertimento, che si devono fare, perché è giusto che si fanno, ma principalmente dovete tutelare la salute dei cittadini. Io a questo punto, invece ve ne fregate, tutti quanti fate i programmi, perché chi l'ha dato l'autorizzazione a costruire questa antenna? Hanno fatto la base, hanno fatto la cosa, e allora giustamente i cittadini hanno scritto al sindaco, hanno parlato con chi? Con chi avete parlato, signore? Abbiamo parlato con tante persone, intanto abbiamo ascoltato le lamentele di tutta la zona, un po' io e Franco ci siamo fatti portavoce di tante persone. Abbiamo parlato con la stampa, abbiamo parlato con avvocati, tutti continuano a dire zona sottoposta a vincolo paesaggistico e zona sottoposta a vincolo marino, perché si trova tra il Plemirio e l'altra zona qui sotto, dove ci sono dei resti di antichità in acqua. Ma bisogna tutelare solo il mare o tuteliamo anche la salute? Io non capisco, chi ha dato i permessi? Passiamo questa macchina? Mettiamoci qua intanto, possiamo continuare? Io non capisco chi ha dato i permessi per costruire questa cosa, ora capisco che il progresso è il progresso, che dobbiamo tutti andare avanti, ma fare gli ignori completamente non è una cosa esatta. Chi ha permesso questo scempio? In una zona altamente popolata di persone, la abitano estate e inverno. Stiamo vedendo qua, tutte circondate da villette? Tutte villette, che non sono abitate solo in estate, attenzione, noi per primi abitiamo spesso tutto l'inverno, molte persone abitano estate e inverno. Ma il sindaco cosa vi dice? Il sindaco ha detto che ora si informerà. Ma allora chi l'ha dato questi permessi? Lo capiamo, la regione Sicilia, territorio ambiente, l'assessorato alle belle arti, insomma tutti quelli che si occupano, appena metti una pietra arrivano a centinaia qui a cominciare a dire questo non lo puoi fare, devi avere l'autorizzazione. E chi se non pomeriggio hanno piantato tutto? Chiedo scusa, da fonte, da informazione, questo è un terreno privato? Questo è un terreno privato dove l'agricoltore ogni anno fa la sua semina, fa il raccolto normalmente. Di fatto è più avanti, in fondo c'è il cancello di entrata, lui è entrato da quella parte. Però penso che sia anche, che potrebbe far parte di un'altra struttura, di preciso non lo so. Da informazioni dette mi hanno detto che questo terreno appartiene anche oltre a essere agricolo a qualcun altro e non lo so questo. Questa cosa qua che hanno costruito abusivamente, secondo me, anche con i permessi, perché con i permessi fatti sono abusivi, fatto nel terreno una grande circonferenza, una grande massa di cemento, in due o tre giorni hanno costruito questa specie di grattacielo, perché è un grattacielo mortale questo, dove tante persone sicuramente avranno problemi con i figli e che porterà tante malattie in avanti, ne abbiamo viste e ne sappiamo che queste cose sono molto pericolose. Ma quando voi avete visto, perché abietate qua nella zona, l'inizio di questi lavori, pensavate che era un'antenna? No, no, completamente. Abbiamo visto che c'era questa base qua, c'era. Non ci abbiamo fatto completamente caso, perché non c'è nessun segnale dove diceva che stavano costruendo qualcosa. Passando poi, dopo un paio di giorni che noi abbiamo messo queste notizie su Facebook e cose varie, e la cosa si è allargata, abbiamo visto più avanti, dove c'è il cancello di entrata, che è proprio lì in fondo, abbiamo visto che ci sono i permessi di lavoro. Adesso lo andiamo a vedere. Va bene, io direi a questo punto di fermarci qua e io ribadisco di nuovo, sindaco, che siete amici con il sindaco di Melilli, che è anche deputato regionale, e anche addirittura è presidente della commissione Ambiente, ma perché non intervenite? Il nostro sindaco di Siracusa mi pare anche giusto, Siracusa è questa, è Siracusa, quindi che ci deve tutelare. E anche il nostro amico Eddie Bandiera, vice sindaco, è una persona valida oltre al sindaco. Sì, malda però, però è malda, però danno l'autorizzazione a altre cose e fanno finta di non sapere niente. No, 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 non credo che questo sia stato. Ma signora, come si fa? Se lei fa un cancello e metta l'aperto, forse vengono polizia, cacciabene, però io penso che ci sono a Siracusa tanti uffici, che ognuno ha le sue competenze, giusto? Quelle persone che hanno firmato questo scandalo di progetto, il sindaco lo sa, lo viene a sapere. Certo, va a sapere per forti. Perché anche lui ci deve mettere la firma, giusto? No, deve essere, firma tutti gli altri il sindaco. Perciò anche lui ha la sua parte di colpevolezza. Va bene, andiamo a vedere cosa dice il cancello, possiamo staccarci innanzitutto. E poi, eccoci qua, il cartello in questione, dove ci sono tutte le autorizzazioni, quindi vediamo se si può avere qualche cosa a casa, se ci sono assessori, sindaco, forse cacciano un bullo, cos'è questo qua? Il direttore dei lavori, il direttore dei lavori, quindi non so se la telecamera, se la Marcello, se la... cioè li stiamo facendo vedere, perché no per la praga, ma sono atti pubblici che sono affissi in questo cartello, può vedere tutto. Allora, signora, vi potete mettere vicino a me cortesamente, così facciamo vedere che siamo un bel gruppo che si lamenta. Signora, lei che ha questo meraviglioso bambino, ha paura? Sì, noi siamo molto preoccupati per l'affissione dell'antenna e soprattutto per la nostra salute, per la salute dei nostri figli, per il nostro futuro, perché noi qui abitiamo anche tutto l'anno, per noi è una zona incontaminata e la presenza di questa antenna per noi è un male, rappresenta un male. Quindi speriamo che l'unione di tutti noi possa eliminare l'antenna, la possa rimuovere. Va bene, allora io direi a questo punto di concludere la presenza di cittadini, da dimostrazione della preoccupazione che li attanaglia. Io voglio dire a questo punto, ripeto, un appello, carissimo sindaco, assessore di turno, Presidente della Commissione Ambiente e Carta, prendete al cuore questa cosa e vedete... Sopraintendenza ai beni culturali, sopraintendenza ai beni culturali. È un'area marina protetta e ci sembra veramente insolito che possa essere installata un'antenna del genere, anche a livello paesaggistico, quindi non mi sembra veramente... è come avere un... c'è un oggetto che non ha niente a che vedere con tutta la... infatti mi sono stupita proprio della presenza di un'antenna in una zona come questa. Poi se sono solo parole che è una zona protetta, allora in questo caso proprio ci rientra con un'antenna del genere. Possiamo dare un appello anche alla sovraintendenza di Siracusa, va bene, ai beni culturali. Grazie, arrivederci, sperando che questo servizio possa dare una mano a questi cittadini che vi dico constantemente che sono, come dice Buffa, i migliori e migliori con tanti villette che sono attorno a questo obbrobbio. Eccola, guardate che brutta sta cosa. Va bene? Arrivederci, grazie. Dica, 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 aspetta. Io volevo dire questo, buongiorno, volevo dire questo, noi abitiamo qua da tantissimi anni, dal momento che è stato scostruito queste case. Ribadiamo di nuovo che siamo alla Fanusa. Siamo alla Fanusa. Noi tutti quanti abbiamo costruito con i permessi dati dal comune, dal sindaco e cose varie. Abusivamente a questo tempo avevamo fatto uno scivolo lì dove c'è il mare. Dopo un paio di giorni è venuta la ruspa a togliere tutto perché avevamo costruito abusivamente. E questo ho proprio qua. Che cos'è? Normale oppure abusivo? È una cosa giusto? Va bene, grazie, arrivederci. In bocca al lupo e sperando che questo servizio di nuovo possa rendere utile a chi, di competenti, di togliere questo proprio. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie a voi. Buongiorno. Sì, sì, è... Ah, alla radio, ci ha veramente salto l'argomento? Eh, chi è bravo? Posso andare io che sono un po' ... ... ... ... ... ...